Oggi vediamo un'arma abbastanza particolare che nessuno, a parte il buon Kronenker, la sta utilizzando bene. Sto parlando della Queen's Cry, che è una pistola molto forte. Come state vedendo, fa un danno base molto alto e ha una certa possibilità, quando colpite i nemici, di andare a fare apparire delle meteore che andranno poi a schiantarsi contro il nemico facendo danno aggiuntivo. Ora, perché, a parte questo youtuber che fa dei video molto carini, nessuno la sta utilizzando bene? Perché questa pistola va a scalare completamente sia nei proietteli normali sia nelle meteore col danno degli incantesimi. Quindi se andate a dargli danno pistola non cambia niente. Se andate a dargli danno qualunque marca cambiata sia, in questo caso danno stalker, non cambia niente. Se invece andate ad aumentare il vostro danno incantesimo, aumenteranno sia i danni dei proiettili sia il danno della meteora. Quindi letteralmente è una delle poche armi perfette da utilizzare su uno sparamagie. Non c'è letteralmente ragione per non utilizzarla, è fortissima. L'unico problema è il come ottenerla. Per fortuna è un wardrope, perché sapete qual è la fonte originaria? La creatrice. Dovrete sconfriggere la creatrice se non la trovate come wardrope, quindi sperate di trovarla come wardrope. Altrimenti sarà una noia mortale. Se la trovate, sapete come utilizzarla adesso. Grazie. Grazie.